Pippi, dalla pallavola al tennis? Ma sì, diciamo che era una mia passione da bambino, l'ho lasciata perché ho intrapreso la strada della pallavola poi una volta smesso per tenersi un po' in movimento, in forma e per divertirsi un po', torno a giocare, faccio qualche torneo per divertirlo. Oggi è vinto 2-0, adesso? Ma adesso onestamente non ho guardato il tabellone perché sono venuto qua giusto per fare una o due partite non so contro chi giocherò, ma più si va avanti più diventa difficile, quindi va bene così, è importante divertirsi. Un bocca al lupo! Crepi il lupo!